Ciao a tutti, bentornati! Oggi parliamo di skin care, ma nello specifico voglio parlarvi di brand italiani di skin care. Io sapete che ho un debole per il Made in Italy, sono sempre per il Made in Italy, quando si tratta di prodotti o brand italiani, ho sempre un occhio di riguardo, io sono molto patriottica. Questi brand, io credo che voi già li conosciate, ma per chi magari fosse meno esperta, o comunque si sta approcciando adesso alla skin care, magari vuole acquistare un prodotto Made in Italy, ho deciso appunto di fare questa tipologia di video qui. Allora, parto subito da un prodotto che sto terminando e che mi è piaciuto tantissimo, sto parlando di Etherea, Etherea Cosmesi, quindi un brand italiano, credo sia campano come brand, non voglio dire cavolate. Questa qui, nello specifico, è l'essenza. In realtà il brand ha una gamma di prodotti vastissima. Loro penso abbiano tre o quattro essenze, diverse tipologie di creme, hanno una gamma veramente molto, molto ampia per molte tipologie di pelle e questa cosa è molto apprezzabile, proprio perché è un brand che propone tante tipologie di prodotti. Io personalmente lo valuto positivamente perché chiaramente avendo più scelte, magari è possibile anche trovare il prodotto che fa bene a noi, più adatto anche alla nostra tipologia di pelle, alle nostre esigenze e a tutto quanto. Quindi, Etherea è uno di quei brand che propone tantissimi prodotti. Io fino ad ora, purtroppo, e dico purtroppo, ho provato soltanto questo prodotto ed è a me piaciuto tantissimo. È un'essenza, come vi dicevo, illuminante e rimpolpante. Io la applico subito dopo il tonico, infatti la consistenza dell'essenza è un po' più corposa rispetto al tonico e meno corposa rispetto al siero, come vedete è quasi terminata. Ce n'è davvero una goccia, forse un paio di applicazioni ed è un'essenza che mi è piaciuta, che mi piace tanto, perché oltre ad avere questa fragranza che mi piace da morire, è proprio piacevole al tatto, si assorbe subito, ha questo effetto illuminante, ma allo stesso tempo molto rimpolpante. Io lo avverto sin da subito quando applico questo prodotto e devo dire che è un prodotto che io riacquisterei, anche se voglio provare anche l'altra loro essenza, perché anche lei è molto molto valida. Cambiamo brand, passiamo a Skin First. Skin First, anche lui è un brand italiano, gestito e comunque formulati, i prodotti sono formulati da una cosmetologa. Io ho provato due prodotti, questo qui che è il perfezionatore cutaneo, che non è altro che un esfoliante all'acido salicilico, quindi con il 2% di acido salicilico e ho provato anche il booster alla niacinamide. Tra i due questo qui mi è piaciuto di più, in realtà sono validi entrambi, però in realtà, devo dirvi anche la verità, il booster non lo trovo, è terminato, penso di averlo gestinato, non ricordo. Sa di fatto che lui è un prodotto che mi è piaciuto tanto, l'acido salicilico aiuta tantissimo a migliorare la grana, a migliorare anche l'aspetto dei pori, a donare anche una luminosità in più alla pelle, a migliorare più che altro l'incarnato della pelle. È un prodotto che io sto apprezzando tanto, cioè in realtà come ingrediente lo sto apprezzando. Questo qui l'ho quasi terminato, perché lo utilizzo alternandolo ad un altro prodotto, che è quello di Paula's Choice, che è praticamente molto simile. Mi piace proprio perché è un prodotto che a me aiuta tantissimo, soprattutto per la grana, perché io cerco sempre la grana perfetta, che è chiaramente impossibile avere, però cerco sempre di affinare molto la pelle, di ridurre al massimo i pori per quanto è possibile, ma io ce li ho e me li devo tenere. Però questo prodotto aiuta tanto, soprattutto per la grana. Alternandolo, io sono partita con due volte a settimana, poi l'ho integrato aggiungendolo un altro giorno in più, ed è un prodotto che a me piace tanto. E Skin First lo apprezzo tanto, perché formula dei prodotti molto ben studiati, molto attenti, vorrei provare anche altri prodotti, scusate, vorrei provare altri prodotti, però ho voluto provare i prodotti di cui più sentivo parlare, di cui tutti insomma clamavano la loro fama, e quindi ho provato questi due. Devo dire che sono rimasta abbastanza soddisfatta, apprezzo anche molto l'impatto social che ha il brand, mi piace, e quindi è un brand che apprezzo e questo qui nello specifico mi piace un sacco. Altro brand, sto parlando di Comfort Zone. Io in realtà questo prodotto lo conosco grazie alla mia estetista che lo utilizza, che utilizza prodotti soltanto di questo brand, ed è un brand di altissima qualità, tanto che parliamo di prodotti che costicchiano un bel po'. Questo nello specifico è un tonico, ed è un tonico lenitivo. Questo tonico infatti mi aiuta un sacco quando la pelle è un po' più arrossata, un po' più irritata, lo applico e mi aiuta anche ad attenuare un po' i rossori. Infatti per chi dovesse soffrire di pelle sensibile, questa tipologia di prodotto e questo tonico sono davvero molto validi. La fragranza è molto delicata e a me piace, è anche molto gradevole. Questo brand, che si approccia anche in maniera diversa, magari anche rispetto a Eteria o anche a Skin First, credo che si rivolga anche ad un target diverso, vuoi anche per il prezzo, ma anche per come viene rivenduto. Ad esempio, io personalmente l'ho conosciuto grazie al mio centro estetico, poi poco dopo l'ho visto anche molto sui social, è abbastanza anche presente sui social, però secondo me se ne parla poco, per quanto è efficace, per quanto i prodotti siano funzionali, perché sono davvero molto validi. Io ho provato questo prodotto e anche dei campioncini di alcune creme e devo dirvi che è davvero validissimo. Il prezzo è un po' limitante, però io ad esempio questo tonico non ricordo quanto costa, io ho la versione da 50 ml, penso ci sia anche la versione un po' più grande, la versione full, però è un tonico che davvero a me piace, è piaciuto e vorrei che anche, se posso spendere due parole, che se ne parlasse un po' di più di questi prodotti, perché tanto la cosa che dispiace è che spesso dei brand monopolizzano content creator, youtuber e tutto il resto e si parla sempre solo di quei prodotti. Magari ci sono tanti altri prodotti o altri brand tipo questo che magari spendono o comunque si rivolgono ad un'altra tipologia di influencer che è già un'altra categoria, secondo me, rispetto al content creator o rispetto allo youtuber, io li distingo personalmente, tipo per dirvi persone molto famose, ho visto che hanno sponsorizzato questo brand e secondo me, se posso dire la mia, questo brand dovrebbe anche dirizzarsi anche su quei canali un po' più specifici, cioè proprio su quelle nicchie di skin care, beauty e non magari un personaggio che ha tanti mila follower ma che di beauty non capisce niente, ecco, di skin care non ne sa nulla. Vabbè, parentesi, comunque mi piace, mi piace un sacco e quindi è un brand che assolutamente vi consiglio. Altro brand che ho scoperto da poco, questo qui in realtà penso sia anche molto famoso, infatti si trova anche su Sephora, ed è Face D. Questo qui nello specifico è un contorno occhi che si chiama Fast Anti-Dark Circle Eye Cream ed è un contorno occhi che sto utilizzando da un po'. Ha questo colore celestino e penso sia anche, in merito del colore, il fatto che vada a sbiancare o comunque ad attenuare molto l'occhiaia. Dice anche che con il passare del tempo aiuta anche a ridurre le borse. Questo non lo posso dire, nel senso che lo sto utilizzando da circa due settimane, le mie borse ci sono e sempre ci saranno, quindi io comunque anche di questo devo farmi una ragione, ma posso dirvi che per quanto riguarda le occhiaie lavora abbastanza bene, soprattutto se io ultimamente soffro meno di occhiaie, ma soffro molto di più di borse, però va a lavorare anche molto bene sulla parte interna dell'occhio, quindi quella parte un po' più scura, un po' più grigia, un po' più brutta, insomma, e devo dire che illumina e va a contrastarle, quindi devo dire, faccio un plauso a questo prodotto. Di FaceD non ho provato altro, posso dirvi che vorrei provare, ad esempio, l'acido ialuronico, anche di quello se ne sente parlare tantissimo e lo acclamano in tanti, e io infatti vorrei provarlo. Posso dirvi però che questo prodotto non mi è assolutamente dispiaciuto, anzi, l'ho preso per caso, perché in realtà questo video è stato un video, diciamo, studiato perché volevo un po' provare dei brand italiani, di cui magari, che io non conoscevo, che non avevo provato, altri magari che avevo già sentito parlare, che vedevo ovunque, e ho fatto un po' una ricerca di quali sono i brand italiani, in realtà ce ne sarebbero tanti altri, però quali che possiedo sono questi e di questi vi parlo, quindi questi vi dovete beccare, e quindi ho voluto provare anche questo brand. Mi piace anche il fatto che sia un brand, che abbia un prezzo ragionevole, quindi lo trovate su Sephora, ma anche a un prezzo non altissimo, tutta la gamma, penso anche il resto dei prodotti, solo di prezzo medio-basso, comunque medio, e quindi anche questa è un punto a suo favore, ma l'efficacia dei prodotti è altrettanto valido, quindi se parliamo di rapporto qualità-prezzo, io lo trovo davvero valido, quindi Face D è un brand che io sinceramente mi sento di consigliare, provato soltanto questo prodotto, non so dirvi altro, però questo lo approvo. Un altro brand è di questo invece, negli ultimi mesi, negli ultimi tempi, lo si vede parecchio, sto parlando di Zago, mi dispiace il fatto che sia scomparsa la scritta e il logo, purtroppo io facendo un po' qua e là tra casa mia e casa del mio fidanzato, metto sempre prodotti all'interno dei beauty e sicuramente a contatto con altri prodotti è andato via il logo, mi dispiace. Questo nello specifico è un tonico che mi piace tantissimo, vi faccio vedere anche la consistenza. Di solito siamo abituati a vedere tonici, acquosi, trasparenti, ecco, lui è ben diverso, ha una consistenza che poi, come vedete, diventa trasparente, un po' più corposa, ma in realtà una volta sciolto tra le dita è completamente trasparente. Ha una fragranza paradisiaca, di fresco, di pulito, che a me fa impazzire e a me piace proprio l'effetto che mi regala. Innanzitutto va già a idratare un sacco il viso, ma allo stesso tempo si assorbe subito, non è un prodotto pesante, infatti come vedete è quasi già asciutto sulle mani. È molto fresco, è proprio gradevole anche averlo sulla pelle. Grazie agli ingredienti presenti all'interno dona anche un effetto un po' illuminante e devo dire che io lo apprezzo tanto. È un tonico che mi piace tantissimo, lui è semplicemente il Restoring Face Toner, quindi tonico viso rigenerante. È un tonico diverso, io personalmente utilizzo molto il tonico, il classico tonico molto acquoso, ne ho tanti e sono molto simili tra di loro, a meno che non parliamo di tonici esfolianti, però un normale tonico, idratante e quasi sempre acquoso. Questo mi piace proprio per questa formula particolare. Zago mi piace anche, lo apprezzo tanto per il concept, il messaggio che manda, anche come presente sui social, è molto giovanile come brand, come prezzi siamo comunque nella fascia medio-bassa, si rivolge anche per il tipo di pack, per la tipologia di prodotto, ha un pubblico un po' più giovane e mi piace tanto, mi piace un sacco. Non ha una vastissima gamma di prodotti, però alcuni di questi sono molto blasonati, molto apprezzati, io questo l'ho apprezzato e devo dire che lo consiglio. Termino con un altro brand e sto parlando di Luce Beauty, ne ho quattro prodotti in mano, io ho preso questo cofanetto contenente quattro prodotti in travel size del brand. Luce Beauty, per chi non lo sapesse, è il brand di skin care di Alessia Marcuzzi. Era da un po' che volevo provare questo brand, in realtà ho preso questo cofanetto perché volevo provare più di un prodotto del brand, nello specifico ho preso una crema contorno occhi, che dovrebbe essere una crema liftante, di questo brand però non ho ancora provato nulla, quindi non posso dirvi nulla al riguardo, se non insomma quello che ho preso. Questo qui appunto è un contorno occhi, si chiama Eye Lift Cream e dovrebbe essere un contorno occhi liftante. Poi ho preso una crema viso, si chiama infatti lifting cream, vi faccio vedere anche il tappino se si vede, secondo me ho esagerato con le luci perché penso faccia parecchie controluce, ed infine ho preso un olio notte, quindi un olio viso, e un siero illuminante. Infatti le boccettine sono anche abbastanza piccoline, il formato è da 5 ml entrambe, e anche questo penso sia 5 ml, quindi i formati sono abbastanza piccoli, però anche per quanto riguarda il siero, e anche per il contorno occhi, posso farmi un'idea anche un po' più ampia, e visto che insomma ero troppo curiosa di provare questo brand, pur essendo italiano, e anche di questo secondo me se ne vede poco, se ne sente parlare poco, e quindi io ho voluto anche provare questo brand. Nulla, io non so se questa tipologia di video possa esservi piaciuta, io personalmente vado spesso alla ricerca di questa tipologia di video, quindi ho pensato anche a quello che potrebbe piacere a me, e nulla, io come sempre vi ringrazio per essere presenti, per chi mi dimostra anche con un piccolo messaggino di apprezzare anche quello che faccio, vi invito chiaramente a iscrivervi al canale, se non siete iscritti, a passare come sempre nel mio profilo Instagram, e io vi mando un bacio come sempre, e noi ci vediamo presto, ciao!